Mettetevi troppo comodi, sarà un fine settimana di caccia ai responsabili o costruttori. Chiamateli come volete, comunque è nelle loro mani il destino di questa maggioranza. Gli ospiti sono pronti, noi facciamo le domande. Sigla. Gli ospiti sono pronti, noi facciamo le domande. Buonasera, ci siamo tutti, c'è anche il professor Luca Ricoldi che è docente di analisi dei dati. Allora, dicevamo, apparentemente l'aria sembra ferma in attesa che il Presidente del Consiglio lunedì e martedì si presenti alla Camera e al Senato. Il destino di questa maggioranza, lo dicevamo, è in mano ai cosiddetti costruttori. Allora, il giro degli ospiti lo facciamo con la stessa domanda. Dove li sta cercando il Premier Conte? Chi lo aiuta e poi li troverà? Senatore Gasparri. Ma guardi, più che costruttori, come hanno voluto chiamarli, per me sono dei palazzinari. Negli anni 60-70, dei piccoli costruttori, appunto, che facevano case a volte anche abusive, così venivano chiamati in modo spregiativo. Ora, quando altri governi hanno cercato persone del genere, la sinistra li vituperava. Adesso sono diventati dei grandi edificatori. Non si va lontano, guardi, sia l'esperienza del centrodestra, quando attinse a responsabili, sia l'esperienza di altri, ha portato poi a degli epiloghi in fausti. Noi riteniamo che, insomma, questa parentesi vada chiusa e anche se molti dicono che non si può votare in questa fase, io credo che dobbiamo dare uno sbocco elettorale a questa crisi, perché c'è stato un conte 1 di un tipo, poi il conte 2 al contrario. Ora il conte 3, inserata poi la cosa bella è che Mastella, liberatore di questo governo, ma c'è solo il voto della moglie, che è andata via dal nostro partito tempo fa, da trasfuga, adesso si è risentito perché non lo considerano abbastanza. A me sembra una cosa veramente da palazzinari. E anche il Quirinale, stia attento, senza licenza edilizia, con questi palazzinari, poi le responsabilità ricadono su tutti. Onorevole Verini. Ma io eviterei di chiamare in ballo in questi termini il Quirinale. Per fortuna che abbiamo un presidente come Mattarella che guarda all'Italia e l'Italia si riconosce lui. In realtà non c'è nessun mercato, in realtà c'è un tema. Siamo in piena pandemia, ci sono numeri di morti ancora importanti purtroppo. Siamo all'inizio, e sta iniziando bene, di una campagna di vaccinazione. Abbiamo però un Paese in ginocchio, categorie intere disperate. E noi tutti, anche il Parlamento, non solo il Governo, ha lavorato per i rimborsi. Ieri sera è stato approvato uno scostamento di bilancio di 30 miliardi che si tramuterà in un nuovo decreto. Abbiamo insomma in questo momento da pensare al Paese. Sì, siccome però il Governo, a causa di una scelta irresponsabile di Matteo Renzi, che ha guardato più, non dico il suo ego personale, ma il suo piccolo interesse di un piccolo partito, ha creato questa situazione, io credo che faccia bene il Governo ad appellarsi a quelle forze in Parlamento che abbiano anche un profilo, magari possono decidere di fare un gruppo per sostenere questo Governo, che non sarà il miglior Governo del mondo, ma certamente in questo anno ha tenuto insieme il Paese. Un'ultima cosa la voglio dire. Io mi auguro anche che senatori e deputati eletti in Italia viva, e sentiamo il loro forte disagio, ma che erano stati eletti nel Partito Democratico, non seguono il loro leader in questa avventura, le cui conseguenze negative le pagherebbe l'Italia. Suona come un invito. Andrei subito dall'onorevole Molinari per sentire, vista dalla Lega, questa situazione, dove li sta cercando il Premier Conte, questi costruttori responsabili, e poi chi lo sta aiutando. La prima cosa sgombriamo il campo da un grosso equivoco. Non è vero che con la pandemia non si può votare. In chiusura del telegiornale, prima di questa trasmissione, avete ricordato come in Olanda, oggi sia caduto il governo e a marzo si voterà. Prima si voterà in Portogallo, poi si voterà in Catalogna, in Galles, in Scozia, quindi in Paesi europei che stanno vivendo la stessa pandemia nostra. Quindi non è vero che non si vuole andare a votare. La verità, e rispondo alla sua domanda, è che ci voleva una legislatura con più di 300 parlamentari del 5 Stelle per portare la politica italiana a un livello di degrado che mai si era visto. Il fatto che oggi al Senato addirittura venga costituito un gruppo che porta nel nome Italia 23, cioè certifica come obiettivo politico quello che prima non si poteva dire, ma adesso si manifesta apertamente, cioè che l'obiettivo unico politico di alcuni colleghi parlamentari sia solo quello di arrivare a fine legislatura, è stato possibile avendo in Parlamento 300 persone che sono state elette dicendo che volevano aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno e che ci voleva il vincolo di mandato. Questa è la grande contraddizione di quello che stiamo vivendo. È una situazione assolutamente, dal punto di vista formale, costituzionale, legittima e questo lo dico, perché se Conte avrà i numeri è giusto che vada avanti, ma dal punto di vista politico assolutamente inaccettabile e mi permetto di dire disgustosa. Vediamo la posizione di Leo con l'onorevole Fornaro che è collegato con noi. Lei che cosa ne pensa di questa situazione? Verranno fuori poi questi numeri e serviranno poi a portare avanti una maggioranza sufficientemente solida per affrontare questa crisi sia sanitaria che economica? Io credo che la domanda che la politica si debba fare innanzitutto è che cosa serve al Paese in questo momento. La nostra risposta è chiara, ma credo che la stragrande maggioranza dei cittadini la condivida. Non servono, ed è l'ultima cosa che può servire, una crisi di governo al buio e tantomeno elezioni. Quindi da questo punto di vista credo che l'onorevole e martedì sarà un passaggio importante. Nella Casa della Democrazia, nel Parlamento italiano, ognuno di noi, ogni parlamentare, prima ancora che i gruppi politici, si assumerà la propria responsabilità di fronte al Paese indicando sostanzialmente qual è la soluzione migliore. Vedremo, io credo che questi saranno giorni anche di riflessione. È del tutto evidente che la strada è quella di avere una maggioranza autosufficiente in grado di affrontare i problemi del Paese che sono molto gravi e profondi. E da questo punto di vista credo che sia giusto anche segnalare che lo scostamento di bilancio che ci sarà mercoledì, che consentirà poi il decreto ristroi dei 30 miliardi, è già stato annunciato, sarà votato anche da Italia Viva e c'è la disponibilità da parte di tutti ad affrontare il tema. Perché è giusto che la politica faccia il suo corso, compreso evidentemente questa situazione di crisi, non crisi, ma non ci si dimentichi dove siamo e soprattutto di dare risposte immediate in termini di ristoria alle categorie che stanno pagando di più gli effetti di questa crisi. Sì, una cosa è certa, la paralisi non ce la possiamo permettere. Professore Ricolfi, allora, lei tra l'altro ha qui il suo libro La notte delle ninfe, come si malgoverna un'epidemia. Io le vorrei chiedere, la collego delle ninfe, non delle ninfe. Delle ninfe, mi scusi, sì. No, sarebbe per leggo se fosse delle ninfe. No, no, per carità, delle ninfe. Diciamo, è stata, come è stata gestita questa tragedia dalla politica? Si riferisce agli ultimi giorni o si riferisce all'ultimo anno? Ma in generale direi, c'è una sorta di continuità. Purtroppo non è stata gestita bene. Nel mio libro cerco di ricostruire i costi di questa cattiva gestione che comunque sono abbastanza evidenti perché abbiamo il record dei morti, anche il record della caduta del PIL e quindi, insomma, non c'è da essere molto... Ma la politica poteva fare diversamente, secondo lei? È stata colta la sprovvista? È stato fatto tutto? Poteva benissimo fare diversamente. Nella prima ondata si può discutere perché, diciamo, per agire diversamente avrebbe dovuto essere una politica di alto livello. Ma nella seconda ondata bastava studiare minimo come funziona un'epidemia per fare scelte completamente diverse. Del resto, guardate, un paese su tre tra le società avanzate ha evitato completamente la seconda ondata. Quindi non si può dire che era inevitabile. Era evitabilissima, non è stata evitata perché questa classe politica ha dei limiti. E dico, per essere chiaro, che non penso neppure che l'opposizione avrebbe fatto meglio. Non penso ci sia una grossa differenza. La differenza che ci sarebbe stata con un governo di centrodestra, secondo me, è soprattutto una. Cioè che i giornali e la informazione sarebbero state molto più critiche. Ma c'è una grande fiducia nella classe politica a prescindere dagli schieramenti. Vedo. Allora, Movimento 5 Stelle blindano il Premier e chiudono a Renzi e dicono Italia Viva, inaffidabile, mai più alleati. Le motivazioni di Matteo Renzi le vediamo in questa famosa conferenza stampa e poi continuiamo il giro. Noi abbiamo detto risolviamo i problemi che sono aperti. Questa è la politica. Pensare di risolverli con un tweet, con un post, con una storia su Instagram è populismo. E la politica richiede il rispetto delle regole, delle forme democratiche, delle liturgie. Noi non giochiamo con le istituzioni. La democrazia non è un reality show dove si fanno le veline, ma se ci sono dei problemi si affrontano ai tavoli della politica, in Parlamento, nelle sedi delle istituzioni. Questo prevede la nostra Costituzione. Se le forze politiche dell'attuale maggioranza hanno voglia di affrontare i temi che sono sul tappeto da mesi, lo facciano, ma senza rinviare ancora. Senza continui giochi di parole, senza continui rinvii a comunicati roboanti sui social. La democrazia ha delle forme. E se le forme non vengono rispettate come è accaduto purtroppo in questo anno fin troppe volte, allora qualcuno deve avere il coraggio anche per gli altri di dire che il re è nudo, di dire che le cose vanno messe sul piatto e se serve dimettersi per affermare la verità ci si dimette e si affronta la realtà per quello che è. Noi non abbiamo paura perché siamo liberi e coraggiosi. Sono tre i motivi sostanzialmente per cui Italia Viva ha dimissionato le due ministre e il sottosegretario. Riassumiamoli. Uno è il mancato rispetto delle procedure parlamentari. Secondo è la tecnica dei rinvii con la mancanza di una politica di lunga visione e poi le migliorie non considerate sufficienti al recovery tanto da mettere in dubbio la capacità dell'esecutivo di gestire i fondi in arrivo. Allora, un giro di ospiti. Renzi dice abbiamo fatto un governo contro i pieni poteri invocati da Salvini ma non per consegnarli poi a Conte. È questo il problema? Guardi, Renzi è affetto da Renzi Filia è troppo innamorato di se stesso ha un smisurato senso dell'ego. Questo signore aveva nel 2014 il 40% dei voti le riforme impostate era al governo aveva un patto con l'opposizione dell'epoca per fare le riforme dopo pochi anni sta al 3% per farsi notare deve fare tutto questo macello. Io considero Renzi se fosse in un'azienda uno da licenziare dal 40 al 3% il suo ego le sue contestazioni tardive noi quante volte abbiamo detto eccessori di PCM non ascolto del Parlamento violazione lui ha vallato tutto questo quindi voto a Renzi zero. I grillini è stato già detto anticasta noi siamo alla novità alla fine stanno lì con il governo giallo verde con il governo giallo rosso va bene la moglie di Mastella lo zio di Tabacci se ci fosse il cugino di Rumor lo prenderemo i grillini dimostrano che il loro l'unico interesse è rimanere lì perché molti di loro sarebbero senza un lavoro letteralmente fuori dal Parlamento sono la super casta i grillini che ha stato detto il suo mandato il PD è abituato a stare al governo senza vincere le elezioni a volte per sua abilità a volte per errori altrui ma io mi ricordo nel 2011 poi sono tornato in maggioranza con Monti alla fine in qualche modo non vinsero le elezioni un'altra volta nettamente ma fu letto a fare un governo che poi fu accoltellato da Renzi quindi per il PD stare al governo senza vincere le elezioni è una cosa che gli viene naturale bisogna andare a votare perché non possiamo avere l'incompetenza grillina lo dico anche a Ricolfi che ha detto onestamente i giornali ci avrebbero cliccato di più guardi la incompetenza di Conte dei grillini e di altri nel gestire questa pandemia è sotto gli occhi di tutti io sono reduce stasera alcuni ristoratori hanno tenuto aperto oltre l'orario perché vogliono richiamare l'attenzione su loro stessi rimborsi insufficienti ritardati la politica è questa sono i ristoranti che falliscono le aziende abbandonate la gestione nonostante la montagna di miliardi messi a disposizione noi abbiamo votato gli scostamenti ci ha chiamato qualcuno a decidere insieme come erogare queste risorse quindi qua il problema è fare rimanere la taverna è figo in Parlamento perché se no non hanno un lavoro basta onorevole Verini allora la parte che compete ovviamente al partito democratico il nome del premier a questo punto si è creata una blindatura intorno al nome del premier Conte però per tenere in piedi questa maggioranza a portare avanti il paese il PD è aperto anche a trattative oppure non si prescinde dal premier Conte guardi Conte è stato ed è un punto di equilibrio fondamentale di questa alleanza che noi vogliamo mantenere le battute si fanno non è il momento delle battute non è il momento della propaganda se uno dovesse scendere su questo terreno io direi che nonostante nonostante i limiti che noi stessi per primi il partito democratico Zingaretti da Messi ha detto bisogna fare un cambio di passo bisogna accelerare il recovery la prima bossa del recovery era largamente insoddisfacente quella che è uscita tra l'altro con 223 miliardi prevede investimenti in tutti i settori del futuro del paese le imprese le famiglie la scuola la ricerca la digitalizzazione la semplificazione la giustizia una giustizia efficiente la riconversione verde potrei fare un elenco lungo di queste cose queste occasioni richiederebbero come dire un governo e noi vogliamo che questo governo non solo superi la prova di lunedì e martedì alla luce del sole alla luce del sole in senato ma vorremmo che dal giorno dopo quella maggioranza lavorasse da un lato per allargarsi e dall'altro lato per definire un'agenda quel patto per le riforme che ci possa condurre sia alla fine della legislatura ma ripeto per il paese io non voglio dire a Molinari che se per caso ci fosse stato un governo di destra in questo paese vede noi stiamo discutendo e anche animatamente abbiamo discusso su come utilizzare al meglio i finanziamenti dell'Europa ma perché? perché ci sono questi finanziamenti e che diceva Molinari se ci fosse stato al governo Salvini o la Meloni che definiscono non più tardi di qualche giorno fa l'Europa una cupola di usurai cioè loro considerano l'Europa una nemica noi siamo riusciti con Conte con Gentiloni con Sassoli con Gualtieri a cambiare la linea dell'Europa e a dare dei segnali importanti consistenti che possono rappresentare il futuro di generazioni lavoriamo su questo anche in un dialogo in Parlamento non con la guerriglia oppure con le opposizioni propagandiste è stata la maggioranza che si è dissolta a noi è stato Renzi è stata la maggioranza diciamo la famiglia di appartenenza era il vostro segretario e noi ci appelliamo ci appelliamo appunto al Parlamento per far prevalere l'interesse del Paese non quello dei partiti che vengono dopo rispetto all'Italia in una battuta oggi il segretario Zingaretti ha detto c'è il rischio concreto di elezioni a giugno lo sentite questo rischio? ma è evidente una crisi al buio provocherebbe questo un governo che non avesse una maggioranza solida evidentemente si rotolerebbe noi non vogliamo fare alleanze di nessun tipo con forze cosiddette sovraniste per i motivi che ho detto poco fa e quindi pensiamo che il rischio di elezioni votare è un esercizio democratico lo sappiamo anche noi ma è evidente ma è in questo momento che l'Italia sta deve la politica il Parlamento deve pensare non andare a insultare i propri avversari politici ma a risolvere i problemi dei ristoratori dei giovani a riapire le scuole magari senza il caos che c'è spesso in molte regioni insomma lavoriamo insieme governo Parlamento Paese e opposizioni no andiamo a sentire Molinari con il pieno coinvolgimento delle opposizioni è stato chiamato in causa direttamente Molinari partiamo da un presupposto che non è il PD che ha fatto cambiare atteggiamento all'Europa è il Covid che ha leso gli interessi anche dei padroni dell'Europa che sono i tedeschi perché il Covid ha fatto sì che quelle che sono le ricette che la Lega ha sempre proposto e che il PD ha sempre contestato e che i cosiddetti europeisti hanno sempre contestato come proposte folli cioè superare il patto di stabilità cosa che è stato fatto e che ha permesso all'Italia di spendere 150 miliardi di euro a deficit quando ricordo nel cosiddetto governo giallo-verde venivamo additati dalla sinistra che si dice europeista perché facevamo un deficit PIL al 2,04 per dare la pensione alle persone cioè noi siamo stati attaccati dall'Europa e abbiamo tenuto la legge di bilancio ferma per tre mesi perché avevamo la colpa di aver fatto la quota 100 cioè ridare il diritto a milioni di italiani di poter andare in pensione all'età giusta e quell'Europa ce lo impediva nonostante stessimo rispettando dal punto di vista di bilancio tutte le regole quello che ha cambiato le cose è stato il Covid perché a quel punto lì anche i tedeschi hanno avuto bisogno di cambiare le regole avere una BCE prestatrice di ultima istanza come la Fed americana che garantisce i titoli di Stato di tutta l'Europa e quindi ha tutelato non solo l'Italia ma tutta l'Europa dallo spread e permettere di superare il patto di stabilità ripeto ricette che venivano ridicolizzate dai cosiddetti europeisti prima e che sono invece state le uniche misure possibili per superare la crisi il Recovery Fund non è un regalo che ci viene gentilmente concesso è un piano europeo che riguarda tutti quanti i paesi e su questo l'Italia è indietro da matti rispetto agli altri la Francia ha presentato un piano dettagliato già a fine estate con il France Relance qui siamo ancora alle dichiarazioni di intenti io rispetto e ho grande stima del collega Verini è vero che l'ultima bozza è sicuramente più dettagliata del documento che abbiamo votato in Parlamento due mesi fa ma anche l'ultimo documento è una dichiarazione di intenti c'è la locazione delle risorse sui temi ma non ci sono ancora i progetti i francesi i progetti ce li avevano a fine agosto e questo perché? perché è un governo che è sotto ricatto dalla differenza delle sue componenti perché è un governo e chiudo che non è nato per fare qualcosa ma è nato contro qualcuno contro Matteo Salvini e contro il pericolo delle urne della vittoria del centrodestra allora vorrei andare dall'onorevole Fornaro perché parlavamo torniamo alla domanda iniziale cioè i pieni poteri che Renzi dice diciamo di aver invocati da Salvini e quindi ha fatto un nuovo governo però non per consegnarli a Conte è questo il problema un eccesso di protagonismo nel ruolo del presidente del consiglio visto dall'interno? ma francamente no io credo che anche le vicende di queste ultime ore dimostrino che del merito del recovery a Renzi non importasse molto aveva nel mirino il presidente del consiglio e ha cercato in tutti i modi e sta continuando a cercare di sostituirlo punto poi sulle questioni del recovery evidentemente rispetto alla prima bozza c'erano dei problemi lo abbiamo detto noi per primi per esempio sulla sanità che 9 miliardi erano insufficienti che c'era una questione rispetto alla cosiddetta governance però va anche dato atto diciamo al governo italiano di essere ritornato protagonista in Europa perché è vero che c'è stato il covid ma è altrettanto vero che oggi noi siamo di nuovo nel gruppetto di testa e non al fondo diciamo dei paesi europei questa è una sfida straordinaria il recovery è la sfida del futuro delle prossime generazioni non è una sfida solo di questo governo è una sfida del sistema paese quindi io credo che nel passaggio parlamentare si possa e si debba raccogliere ancora osservazioni proposte anche da parte delle opposizioni credo che questa sia la strada da percorrere poi ovviamente c'è un tema di collegialità però insomma mi è parso evidente ed è parso evidente a tutti il carattere strumentale di una serie di accuse salvo poi adesso annunciare l'astensione lunedì e martedì che ha il solo scopo evidentemente di bloccare un'eventuale emorragia da parte di eletti di Italia Viva che non condividono queste scelte soprattutto le modalità di governo tra virgolette della crisi fatta da Renzi io andrei dal professor Ricolfi un occhio attento al di fuori della politica per chiederle in una battuta se l'emergenza della pandemia giustifica il procedere per DPCM no io penso che non sia necessario penso che non è stato usato lo stesso metodo nella maggior parte dei paesi europei il DPCM è semplicemente uno strumento che Conte si è autoattribuito per dovere per evitare di dover discutere con gli altri e accelerare i suoi processi decisionali salvo peraltro usarlo molto male perché su tutte le cose fondamentali questo governo è in ritardo penso soprattutto agli aspetti sanitari prima ancora che quelli economici i tamponi per esempio sono indietrissimo nell'ultimo mese e mezzo sono stati addirittura dimezzati nel momento in cui avremmo dovuto aumentarli quindi i DPCM potevano anche andar bene anche se io non ritengo fossero necessari se fossero stati usati per accelerare le decisioni ma la caratteristica fondamentale di questo governo è l'immobilismo su tutte le cose fondamentali e su questo prego finisca voglio solo dire questo Renzi ha un sacco di responsabilità e la più importante è di avere creato un governo con i 5 stelle per cui non si può lamentare di quello che succede che causa del suo mal pianga a se stesso però nel merito la maggior parte delle osservazioni che Renzi ha fatto io ho sentito tutta la conferenza stampa sono fondate secondo me sono molto fondate una cosa è certa su questo vi volevo portare in un rapido giro perché poi Italia Viva si è impuntata per vedere il testo del recovery e ha segnalato diciamo così delle inesattezze delle mancanze e la bozza poi è stata modificata allora se non ci fosse stato Renzi poi alla fine queste modifiche non ci sarebbero state rapido giro ma guardi noi abbiamo presentato come Forza Italia un documento ampio 250 pagine burocrazia giustizia sanità chiediamo di utilizzare dei fondi a tasso zero per rilanciare e ristrutturare la sanità che ha bisogno per i vaccini e per tutto di una migliore organizzazione non c'è nessun confronto perché la maggioranza anche quando abbiamo votato scostamenti e altro con voti decisivi non ha mai aperto un tavolo di confronto riteneva di essere autosufficiente perché l'unico obiettivo è far sì che la legislatura duri fino al 2023 per la gioia del PD degli altri della moglie di Mastella e dei grillini che hanno tradito ogni mandato di moralizzazione e di anticasta che sono la più casta delle casti ma si voti perché si ha paura perché si tagliano i seggi e non fa niente il destino di noi ma che avete paura del voto eh sì perché i sondaggi sono tutti chiari insisto noi sì ci accorgono di essere subalterni sì siamo subalterni siamo subalterni agli interessi del paese pensiamo che vengano prima degli interessi dei partiti e in questo momento in questo momento bisogna concentrarci sui problemi sulle emergenze drammatiche dell'Italia quanto a recovery no non è Renzi certamente ha avuto il merito di quella sua scellerata decisione è evidente ma sta qui la gravità perché molte risposte che anche Renzi ma il partito democratico aveva posto perché anche noi eravamo insoddisfatti dei contenuti alcune proposte che Forza Italia ha fatto erano interessanti e sono interessanti ne parleremo in Parlamento l'EU a sua volta ha fatto anch'essa delle modifiche ma Conte il governo su questo aveva accolto allora perché a freddo invece di raccogliere la sintesi a cui eravamo arrivati su questo e su altre questioni si è evoluta questa scelta a freddo un interrogativo allora dopo vado da Molinari e da Fornaro però prima voglio farvi vedere la politica oggi la politica come era tribuna politica di 60 anni fa i protagonisti e poi ne parliamo tutti i partiti riconoscono che la gravità della crisi che il paese attraversa sul piano economico sul piano sociale sul piano politico e anche morale italiane e italiane la esperienza di tutti i paesi del mondo nessuno escluso insegna che non si può stare con i comunisti senza essere utilizzati dai comunisti l'Italia ha corso una pericolosa avventura siamo stati sul punto di essere respinti addietro verso un regime autoritario di tipo fascista il presidente del consiglio già aveva diffuso una specie di appello alla rinascita dello squadrismo per noi la democrazia significa rifiuto di ogni posizione totalitaria difesa di fronte ad ogni minaccia alla libertà da qualsiasi parte provenga i problemi sono gravi ma ci pare che una certa situazione sia stata rotta e che se crei una possibilità nuova i partiti saranno costretti a meditare sul passato su quello che è stato fatto nel passato su quello che bisognerà fare nell'avvenire ho veramente 30 secondi a testa corsi e ricorsi storici una classe politica che non esiste più senza fare un'operazione nostalgia però c'è chi sostiene che gli italiani siano migliori della classe politica che li rappresentano onorevole Verdini Verini sì perdone io penso io ho una certa nostalgia non bisogna guardare con lo specchietto retrovisore la realtà no però certo era una classe politica molto diversa beh quelli erano quelli che abbiamo visto erano poi con i limiti ma erano giganti della politica eccetera anche tra avversari però voglio dire una volta c'era lo studio c'era la passione la competenza e io ho nostalgia di quella politica perché poi ripeto anche il lottare il combattere tra avversari non nemici non nemici è una cosa importante è il sale della democrazia però c'è bisogno ci sarebbe bisogno di quello spirito che quelle forze politiche che non ci sono più però avevano salvaguardare il meglio del novecento e trasferirlo come ispirazione anche per costruire il futuro dei mostri sacri del passato ma guarda disarticolare i partiti la formazione politica ha prodotto poi il disastro dei social dei meet up il grillismo e i 5 stelle sono la punta estrema del degrado della politica al punto che entrati nel palazzo non hanno saputo governare nulla hanno creato un caos vedo anche i sindaci come la Raggi e adesso stanno lì abbarbicati perché sono arrivati lì senza un mestiere senza una prospettiva nel passato c'erano cose giuste cose sbagliate ma c'era passione cultura politica io sono orgoglioso di venire da una di quelle tradizioni che è apparsa in quelle tribune politiche di molti anni fa Onorevole Fornaro nostalgia? beh io credo nostalgia di una politica capace di confrontarsi nel rispetto reciproco io credo che questo sia un tema sia quando si sta in alleanza e anche con le opposizioni poi è anche vero che c'era una lotta politica dura con colpi sotto la cintura anche a quell'epoca diciamo che ogni epoca ha la sua classe politica ha la sua società civile io da questo punto di vista credo che la classe politica sia il prodotto del corpo elettorale che la elegge quindi nel bene e nel male non ci sia diciamo quasi mai una società civile perfetta e una classe politica totalmente imperfetta neppure viceversa Molinari nostalgia? non mi sente più lo stanno intanto no la sento adesso no la sento la sento no vedo proprio un piccolo problema tecnico guardi io penso io penso che il problema di questa legislatura sia proprio lo sfocio in via istituzionale dell'antipolitica la politica oggi serve più che mai perché la politica è l'unico strumento di emancipazione delle classi sociali più deboli e dei popoli rispetto ai poteri forti quelli veri che non sono la politica come una certa narrazione ha raccontato negli anni passati generando lo fenomeno del grillismo ma soprattutto in tempo di globalizzazione sono le grandi concentrazioni di capitale le grandi multinazionali quello che sta succedendo adesso ad esempio con Amazon con i social network con i monopolisti dell'informazione del commercio e di tanti settori quindi dobbiamo tutti quanti tornare quota parte ad abbandonare e non cavalcare la tigre dell'antipolitica perché danneggia non tanto noi che facciamo politica da privilegiati ma danneggia le persone che la politica devono tutelare cioè le fasce sociali più deboli che hanno bisogno del potere pubblico per essere difeso dai poteri economici che sono molto più forti ringrazio il professor Ricolfi ringrazio tutti i senatori e gli onorevoli che sono intervenuti sarà un weekend lungo e laborioso anche e soprattutto dietro le quinte e ci rivediamo lunedì grazie per averci seguito e buon fine settimana grazie a tutti grazie a tutti